Ciao! Vuoi per caso vincere un sacco di lane, fare un sacco di gold e vincere un sacco di LP? Beh, stai guardando il video giusto, perché questo è il tutorial segreto di come vincere un sacco di ranked. E lo so che starei pensato, Joppy, ma come è possibile? Chissà come si fa? Beh, puoi giocare Lucian in bot lane, lo vai a giocare magari con una succosa Nami e vi fate una bella lane Lucian Nami, oppure un bel Lucian Brom, oppure Lucian, e chi vi pare, basta che siete aggressivi, sapete menare e non morite come dei faggiani. Per la build di questo splendido campione andiamo con una build piuttosto aggressiva che ritorna un po' alle basi di quello che era Lucian. Infatti andiamo con le Scarpe della Cura, la Dractar come primo item, così abbiamo un sacco di danno, il rallentamento e poi abbiamo anche il succoso Press di Attack, potenziamento qui che ci permette di fare dannoni super sexy e continuiamo con Mega Lama dei Solari, Blaster Magnetico, Memento Mori ed Infinity Edge. Ovviamente se vi serve l'anti-L prima lo potete fare, se vi serve la penetrazione e armatura prima per qualche motivo che ci stanno tipo tre fighter, non siete fidati, siete messi un po' così, potete farlo prima perché ormai da questa patch ha il 33% di penetrazione e armatura, quindi cosa da tenere in considerazione, altrimenti appunto andate con questa cosa. Il Blaster è troppo comodo, il range è tanta roba, specialmente con la passiva. Vi buttate in, fate la terza abilità e tirate questi due pizzoni a distanza. C'è anche chi sta andando come primo item Storm Razor, lo Storm Razor potenziato è molto forte e vi permette di arrivare ovviamente prima al 100% di critico, ma così facendo dovreste rimuovere uno di questi quattro oggetti. Probabilmente in questo caso sarebbe la Mega Lama dei Solari, andando a fare Storm Razor, Blaster Magnetico, Memento Mori ed Infinity Edge. Ma mi trovo meglio con l'effetto della Dractar, il costo inferiore e la potenza comunque in early game, andando poi su degli oggetti che preferisco più avanti. Per le rune andiamo appunto con Potenziamento, con Brutale, con Uccisore di Giganti, che ovviamente come sempre cambiamo in colpo di grazia se non ci sono tank, se non ci serve questa runa. Continuiamo con Legenda Stirpe per curarci e Impatto Improvviso per la Penetrazione che è sbroccato, perché tanto con Lusian lasciamo sempre e lo brocchiamo. Per quanto riguarda le Summoner Spell andiamo ovviamente con Sfinimento e Flash, qui non abbiamo proprio dubbi. Se lo giocate in mid potete giocare l'Ignite, ma comunque secondo me lo Sfinimento è una Summoner troppo sbroccata per non essere utilizzata. Detto questo io vi lascio all'incredibile gameplay. Quando faccio i subday con i solo abbonati non fai giorni dove giochi con tutti. Esatto, sono quelli, sono i subday, non solo gli abbonati. E gli altri quando non ci stanno abbastanza abbonati gli permetto di entrare a fare da tappa buchi. Ma la priorità è l'anno gli abbonati perché già è un giorno solo magari appunto. Per dare qualcosa in più. Ciao Sanji! Ciao Sanji! Occhio che fanno il 2 primo. Guarda quanto danno fan Nami, ragazzi. Io non volevo dare lo suo Piel Minion. Stanno pushando il 2. Ok, lo pushiamo fino a qua. Beh, per Piel Minion e per fare livello 2. Metà vita, gone. Grazie mille Sanji per la subgold prime. Una jumpiscoteca, uno spawn di coricini e let's dance. Bella. 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 Dobbiamo prendere le cure. Hola E. Loro chissà mi hanno usato. Guarda questa coda che merda, ragazzi. Ok, vabbè. No, non penso André Fai, ma non posso ora, raga. Appena posso vi rispondo. Però ho messo reward perché tanto mi stava scadendo. Cioè, nel senso ero pieno. C'è il jungler loro, secondo te? Non posso fare l'ultimo attacco. Eh, porca mignotta. Non so se era meglio, visto che Nick sarebbe morto a prescindere. Non è che questo fa male. Dai, non ho pensato alla ulti di Kyle, lì. Oddio, no. Le scarpe devo fare quelle di resistenza magica. Dipesa. Provo, c'è un Capetractor al primo item. Bravo Fitz. No, guarda. Onestamente credo sia soltanto una questione di che sono premade. Altrimenti non l'avrebbe mai fatto quella roba. E io non ci ho pensato perché sono stupido. Non ci arrivo. Va bene, però. Thanks per i minion. Come sto? Eh, un po' stanco. Un periodo problematico con la tesi. Sì, come butta. Uh. Perfetto. Perfetto. Che Kyle è che fa danno negativo, scusate. Devo aspettare che Fitz salti, io. Fan culo. Cioè, quello ha piccato Fitz in Tullissandra. E sta comunque messo meglio. Scam. Arriva Nami. Io ho zero mana più che altro. Come forse usciamo a prendere questa? 30. 80 gold alla Draktar. Problema che dovremmo regalare per il Drake. Oh no, ce li ho. Ce li ho i soldi del... Grande. Hai usato l'item prima di... Uh-huh. Il Kyle è orli sta a far danno negativo. Hmm. Se vuoi andare vai, eh. Ok, no. 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 Non ci arrivava lui per quello nel frattempo o meno da Nami. Ok, le sta accendendo. Oh, è vero, si è fermata. Ho la NCD, sappilo. Non ci credo. Una ormana. Una ormana. E ovviamente non ci arrivavo di range. Scendono Kyle e Fitz. Questo riesce a saltare, era fatta nel momento sbagliato la combo. Beh, lì, mille gold l'ho preso. Mi ha dato il blue buff, Fitz. Bravissimo. C'ho il blue buff. Ah, ma lui non c'è. Facciamo. Prendi il portale? Sì, prendi il portale. Sì. Sì, prendi il portale. Siamo lui col portale. Merda, mi hanno preso qualcosa. Bravo. Oh, Fitz. Perfetto. Ehi. Sì, sì, sì. Ma va benissimo, infatti, così. Vai sulla sinistra un secondo metri. Esatto. Perfetto, thanks. Benissimo, va benissimo. So i big on te. Oh. Lì verso giù. Mordekaiser 3-0. Con già scarpetti di Pisa. Bene, bene, bene. Port. Stai, mi prendo un tial qua, intanto va. Mundo, ok, champion. Giustamente respawno. Prendi il farm bot, Nick. Andiamo, arrivo su, arrivo su, arrivo su. Mi piace che gli altri gli faccio un danno infinito. Bello. Secondo me è tornato l'ulti a questo. No, vabbè. Era morto, c'era l'ignite. Guarda, sennò mi stoppavo l'ulti per tirare. Perfetto, dai. Stoppavo l'ulti per tirare l'ultimo attacco basso sul lato massivo, se non è stato l'ignite. No, no, lo slow è forte. Brom ha lasciato Redemption senza scarpe? Credo di sì. Sì. Ti confermo un sì. By the way. Guardatela. Ah no, non si vede qua. Rip. Vabbè. No, non so lento così. La mia è mid. Pizza mi può shottare, non ho la zona ancora. L'ho andata, eh? Merda. Ah, l'ha rubato, raga. Il problema è che mo' quando esce... Uh. Let's go. Ok, ulti di Kyle, ulti di Nami. Ora Fizzy viene in. Dovevo. Ubriaco. Kyle l'ha già ultato. Nami ha ultato. World of Kizer ha ultato. No, aspetta. Evito di fai darle in 3 contro 2. C'erò. Sei qua. Cerchiamo di raggiungere lui. Mi sembra che facciamo in tempo. Vogliono rubarci il rosso sicuro. Ok. Ok. Perfetto. Molto bene. Prenditi il rosso tu, così me lo dai anche a me. E... C'è Alessandra. Si spera che gli tira il ciccino. Recollo, recollo io, eh. Ci arriva Mundo. Io recollo però perché sto veramente con le pezze al culo di mano. Voglio andare esatto all'Ivery Drake. Troppo... Non è che fanno Baron mentre ne facciamo Drake? No. Allora stanno facendo Drake. Dai, fai le quelli. Perché non è entrata quella? Ok, ho ultato Fizz almeno. Oh mio Dio. Scusa per lo steal che quello poi saltava fuori di nuovo. Fiamo il Drake. Che almeno evitiamo che facciamo... Cioè, teniamo la possibilità di fare la soul. Sto chitando. Sono ancora abbastanza in salute. Sta scappando da me. Bello, bello. Fuori, bello. Fammo Baron, fammo Baron, Barom, Barom... Barom, 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 Barom. perfetto ok zonia ora e critichino Ezra ha tirato le ulti in base non ho capito focus per n cioè è per f il focus ma bene 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 Ezra al top Ezra che ha fatto lei in criminale mi piace come sono passato da non fare nulla a Mordekaiser dentro la sua ulti e a farlo scappare la fanno morire questa secondo te pizze lì hello si gira perché capisce che sono contento che l'hai presa perché ho tirato l'attacco basso per sicurezza e basta mezz'ora là sotto sta rompe coglioni là ci vai tu che regoli perché ti curi ma che perché cosa fa con quel cazzo di DX ma che morda di lato Dio santo ah raga sta trollando perfetto su pizzo continuo bellissimo bellissimo mamma mia devo morda di età non arriva la torre così c'ha la zonia lui non ha ancora la ultima oddio forse gli è tornato sto sbuttando i minimi mid perfettissimo 8 secondi del loro blu noi lo bruciamo no troppo rischioso no rischioso lascia perdere stavano andando tutti lì tipo spedizione quindi io prendo il nostro blu lo sto usando tantissimo il blu si ma poi riducendo la ciocci si l'issandra stava facendo qualche ulti decente ma l'ho messo troppo meglio ragazzi la parabola è in pizza è sotto e non penso ci sta what the fuck questo è qui cosa eh gailen sta qua mi ha visto la passiva su un borde prima di devi scappare in che senso c'ho il pesce dietro no merda come on bello oh bello lì mondo con l'hp vabbè mondo vabbè che presa male so se fare GA o mal mortis ultimo item perchè tanto kyle mi apre comunque gli altri oppure qualcosa per curarmi fine game video di top per ora vedo che dovrebbe andare nel cazzo del nostro top lane dovrebbe fightare non fighta mondo tira non accetto poteva rubare baron ha preso un ami io non ho parole però se se lo chasano se lo chasano forse possiamo fare qualcosa un po' fizz mid così a random si comunque va non se sa che cazzo gli ride diciamo a questi vai fuori attenzione che stanno facendo ah certo perfetto posso saltare? io avviate l'obriaco perfetto bravo pg toccate le palle buono del mio score 2-2-22 oh my god to-to-to-main for polizia ne approvvito per ricordarvi che sono live tutti i giorni dalle 16 alle 20 tranne il venerdì jumpy allen sempre troppo forte colpo alla polizia grazie alla trio q del destino con ball cannone con magic cannone che fa 2-2-2-22 vediamo l'nvp secondo me sarà di bromo mercurio bromo vediamo mercurio bromo con l'nvp can i can i see the game yes 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 92,6% dei luciani l'nvp niente lo prendo io ma ho bromo nel cuore 13-14-11 andiamo a dare il like a tutti tranne che ha quel top laner infame per lui solo lame 46k damage ma già